Nuova iniziativa sull'asse Dino Zampacorta a Piero Mazzocchetti all'insegna della musica, del sorriso, per lanciare un messaggio di fiducia e di speranza. Sportivi del passato e del presente, abruzzesi o legati alla terra d'Abruzzo, hanno raccolto l'invito e partecipato ad un nuovo video. Da Eusebio Di Francesco a Iarno Trulli, da Giacomo Di Cara a Roberto Bosco, da Tonio Liuzzi a Morgan De Sanctis, da Giulio Ciccone a Gianluca Colonnello, fino ai campioni del mondo, Massimo Oddo e Fabio Grosso, e Leo Junior con il suo saluto dal Brasile. Il tutto corredato dal celebre brano di Albano e Romina, Ci Sarà, e da uno slogan che rende orgogliosi gli abruzzesi, nous sommes nous. Anche un modo più umano per dirsi, ti amo, ci sarà. No sei menù. 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 No sé menù. No sei menù. Offici abruzzesi, un grosso saluto da Rio di Janeiro, dalla parte mia, dalla mia famiglia. Speriamo che in questo momento possa passare il più veloce possibile, così possiamo rincontrarci. Un abbraccio a tutti! Emozioni uniche, ricordi indelebili. Mando un abbraccio grandissimo a tutti, complimenti per i figli e buona Pasqua e mi raccomando continuiamo a rimanere a casa perché sono convinto che presto e potremo riabbracciarci tutti. Ciao ragazzi!